Sono gravissimi due operai travolti da una gru in un cantiere edile di Trivolzio in provincia di Pavia. Il carrello è precipitato nella frazione di un secondo questa mattina intorno alle 8, schiacciando i due muratori del posto, 35 e 38 anni. Il manovratore è scappato via dopo l'incidente in preda al panico. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che il primo sia stato colpito da un carico caduto dalla gru, mentre il secondo sia stato travolto dall'argano precipitato per il contraccolpo. No, 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 lui non se ne ha accorto di niente, lui si è accorto solo, quando mi racconta mio figlio, che è arrivato il bancale e dietro lui fa, oh, basta, non mi dà niente. Un terzo operaio di 32 anni è stato ferito in maniera lieve. I colleghi presenti hanno subito chiamato il 118. I sanitari hanno rianimato sul posto i feriti che sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico San Matteo, sul luogo dell'incidente i tecnici dell'ASL per i controlli di sicurezza e i carabinieri della Compagnia di Pavia per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.